Bene amici, le macchine costano sempre di più, le dash camera in questo ultimo anno hanno fatto comunque un passo tecnologico importante allora proviamo questa Garmin Dash Cam Tandem 1440p di definizione, doppia camera, voice control e soprattutto controllo in modalità parcheggio se qualcuno ci prende dentro la macchina dovrebbe azionarsi vediamo interessante il form factor perché è una cam decisamente piccolina vedete con i due obiettivi montati sulla stessa camera quindi va a riprendere quello che succede fuori quindi davanti ma anche quello che succede dentro l'abitacolo se abbiamo un 1.8 abbastanza grande è anche quello che succede dietro questo è il supportino poi qua abbiamo la memoria che si può inserire e di serie c'è già una memoria vediamo da quanti gigabyte 16 gigabyte poi in confezione troviamo il caricabatterie con due uscite usb quindi si può anche ricaricare il telefono immagino uscita a 1 ampere quindi non una ricarica veloce il cavo per collegare all'accendisigari immagino di lunghezza 1 e il cavo per collegare all'accendisigari di lunghezza 2 mi porto tutto dietro, monto in macchina e vediamo come riprende è arrivato in macchina ho attaccato questo ottagono al parabrezza ce ne sono due in dotazione ottagono che grazie alla base magnetica va a collegare la cam che devo dire rimane molto molto stabile il collegamento per alimentazione a sinistra forse l'avrei preferito a destra perché tendenzialmente il cavo poi di alimentazione si fa passare il lato passeggero ovviamente non essendo mia questa id3 non ho fatto un'installazione pulita non ho nascosto il cavo che una volta arrivato qua mi sono reso conto essere giustamente usb ma questa macchina è troppo moderna quindi non ha la presa accendisigari ma anche delle prese di tipo c quindi non usb standard allora adesso recupero un adattatore e la collego però qua due suggerimenti uno per garmin ci sono sempre più vetture con usb di tipo c quindi magari mettere un adattatore in confezione oppure mettere due cavi uno standard e uno tipo c potrebbe avere un senso ma il secondo soprattutto per chi installa un apparato di questo tipo consiglio di fare un giretto da qualsiasi elettroauto una mezz'ora e di collegare a un'alimentazione sotto chiave la cam molto più comodo visualizzazione al tramonto un po' di luce ambientale un po' di fare un po' di illuminazione stradale insomma condizioni difficili vediamo come si comporta sui strada urbana con buio e veicoli che arrivano dall'altra parte quindi ci abbagliano un po' situazione di buio estremo qua sono gli abbaglianti li tolgo provo a fare questa rotatoria che comunque è abbastanza buia a parte le luci degli altri veicoli e vediamo come si comporta e questo è un violone urbano anche qua poco illuminato meglio illuminato da parte e non illuminato dall'altra camera interna provo a accendere la luce vedete meglio provo a spegnerla e rosso mi fermo e vediamo quanto è grandangolare qua in piazza gaolenti con il grattacielo come avete visto sfiorato un incidente in diretta la dash cam è veramente utile avrei ripreso il fatto che la 500 ha fatto veramente una manovra azzardatissima mamma a volte è questione veramente di secondi e di attimi appena rientrato in macchina la cam si è appena accesa vediamo in quanto tempo prende il gps lei ha la funzionalità sia segnalazione autovelox sia la possibilità di essere comandata con la voce lì c'è un autovelox vediamo se mi dice qualcosa vado a 70 velocità massima qua consentita ragazzi non mi ha detto niente però hey garmin salva video i comandi vocali funzionano e si può mettere in muto salvare un video oppure salvare un immagine per mettere in muto c'è anche il pulsantino qua sotto si può schiacciare vedete si spegne il led rosso che indica proprio che sta registrando anche l'audio oltre al video è venuto il dubbio che potessero aver preso il gps quindi non sapere che lì c'era un autovelox tra l'altro lì l'autovelox c'è da tanto tanto tempo ma questa camera intelligente ha il wifi anche l'applicazione per vedere in tempo reale quello che sta registrando ma come vedete i dati sul gps e ovviamente si può vedere sia camera anteriore che camera posteriore erano presenti dall'applicazione vabbè l'applicazione la faccio vedere dopo ma adesso faccio una prova non c'è nessuno dietro no frenato di emergenza vediamo se scatta il no registrazione automatica non è scattata ma le cinture mi hanno pretensionato e allora simulo un incidente così crash crash eh sì così mi sa che così mi sa che l'ha memorizzato passaggio repentino da tanta luce al tunnel e qua facciamo un test invece in uscita di galleria con un controluce perché vabbè oggi c'è la nebbia ma il sole ce l'ho in fronte e come avrà ripreso ed eccoci all'app si chiama drive si collega in bluetooth per mandare le configurazioni ma se vogliamo andare a visualizzare come fatto prima il feed in tempo reale il collegamento passa in wifi come vedete si sta collegando alla cam ci mette una decina di secondi si può vedere sia la camera anteriore sia la camera posteriore e devo dire con tanta luce qua la qualità mi sembra decisamente buona ma non solo perché si può entrare nelle impostazioni cambiare la qualità della camera anteriore abbassarla dal 1440p al 1080 se volete risparmiare un po di spazio nella memoria interna invece obiettivo interno si può settare solamente a 720p 30 fps perché l'obiettivo interno ha la visione anche notturna si possono attivare i dati in sovraimpressione sì no posizione data ora e velocità e poi gli avvisi qua si può settare il volume ora è data comandi vocali si possono attivare disattivare e si possono impostare in varie lingue e poi qua la ricerca degli aggiornamenti del software adesso il software è correttamente aggiornato ma non solo perché qua sotto possiamo andare ad aggiornare il database degli autovelox funzionalità che non so quanto sia utile su una dash cam ci sono diciamo gli smartphone con le app apposite che funzionano decisamente bene poi si può formattare la scheda sd ma la cosa molto 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 interessante la possibilità di andare dentro alla cam per vedere le registrazioni come vedete sta acquisendo tutte le riprese salvate riprese salvate vuol dire quelle che la cam salva se o noi schiacciamo il pulsantino oppure quando rileva un incidente o un crash e vedete queste sono tutte quelle di questi giorni le riprese temporanee invece sono quelle riprese che vengono sovrascritte quando la memoria è esaurita quando la micro sd finisce non è che non registra più continua e va a cancellare le registrazioni più vecchie ma non cancella quelle che noi abbiamo salvato schiacciando il pulsante oppure quando ha sentito un movimento che può essere stato un crash se io vado dentro una registrazione una caso per esempio questa la cosa bella è che si può guardate trascinare a destra o a sinistra questa specie di timeline e si può andare a esportare un video includendo anche l'audio qua ovviamente c'è una piccola anteprima e si può sovrapporre volendo anche la cam anteriore vedete lui sta adesso esportando il filmato in alta qualità e lo si potrà poi salvare nella memoria del telefono per poi condividere l'altra cosa interessante è che dall'app ho una sorta di mini tutorial sui comandi che si possono dare a voce ma soprattutto che posso aggiungere degli altri dispositivi anche dall'app posso attivare o disattivare la registrazione dell'audio ma voglio dire il pulsantino perché c'era sotto forse è più comodo ma se io aggiungo altri dispositivi posso fare una sorta di regia tra più dash camere anche se anche qua la funzione magari non utilissima visto che questa cam è ottima secondo me proprio perché ha il doppio obiettivo uno davanti e uno dietro integrati nello stesso corpicino che è piccolo ed è anche abbastanza discreto ma adesso vado a rivedere i filmati e traiamo le conclusioni in ufficio ma ovviamente i file si possono anche scaricare col cavo collegato al pc molto interessante come sono organizzate le cartelle interne perché guardate c'è la cartella degli eventi quindi le registrazioni automatiche quando sente un crash la cartella dove salva le foto la cartella dove salva i video quelli che gli diciamo noi di salvare schiacciando questo pulsantino qua e poi ci sono le cartelle relative al parcheggio e anche relative al unsaved cioè tutti quei file che la cam crea e automaticamente va a sovrascrivere quanto occupano vi dico subito un'ora di registrazione dalla cam anteriore occupa circa 3 giga dalla cam posteriore ovviamente perché ha una risoluzione più alta occupa 10 giga quindi dovete tenere presente che ogni 14 giga avrete un'ora di registrazione se volete espandere questo tempo di registrazione dovete mettere dentro una micro sd più grande quella in dotazione è da 16 gigabyte quindi vi registra un'ora del passato del vostro viaggio in macchina vi ho parlato di funzione parcheggio ma per attivarla ci vuole un cavo apposito vedete questo parking mode cable che sostanzialmente dà alla cam non solo l'alimentazione costante dalla batteria ma anche il sotto chiave quindi la cam sa quando la macchina è parcheggiata e invece quando la macchina è accesa cosa succede in parking mode che lei è sempre in stand by quando sente un urto magari qualcuno parcheggiandoci prende dentro nel paraurti si attiva la registrazione che viene ovviamente salvata nella cartella che vi ho fatto vedere prima non costa poco 349 euro ma devo dire che mi ha veramente veramente soddisfatto prima di tutto per le dimensioni molto piccole 5 cm 4 cm 2,3 di spessore 60 grammi riusciamo a metterla tranquillamente sul parabrezza poi bello il fatto che si può staccare e riattaccare plug and play che voglio dire rende anche bene che ci sia ma superflua l'applicazione perché per scaricare i file avete visto si attaccano dentro al pc e si scaricano tranquillamente bello però il fatto che l'applicazione può creare quei video picture in picture con cam posteriore e cam anteriore in sovraimpressione buona anche la qualità del video perché avete visto l'adattamento alla luminosità quando si entra in un tunnel quando si esce in un tunnel contro luce ma anche di notte bene anche la visione diciamo infrarossi notturna perché la cam è proprio sensibile all'infrarosso e secondo me non vorrei sbagliare ma questo qua è un emettitore a infrarossi se così non fosse comunque ha un'ottima visualizzazione anche di notte ma soprattutto affidabile non ho mai avuto problemi non si è mai incartata comandi vocali anche qua ci sono vabbè possono essere utili ma quello che secondo me fa di questa cam una ottima dash cam è avere due obiettivi a 180 gradi e ok 349 euro ma quanto costa andare a dimostrare di avere eventualmente ragione in un incidente stradale quanto ci può costare le conseguenze qua abbiamo un gps affidabile avete visto le coordinate la velocità ma soprattutto una visualizzazione praticamente a 360 gradi di ogni angolo di quello che succede fuori e dentro la macchina quindi veramente un bello oggettino che è anche plug and play solo se vogliamo magari installarli in maniera un po' più pro cosa che io vi consiglio cavo parking e quell'oretta dall'elettrauto un saluto da andrea galeazzi punto com grazie a tutti